Bentornati e benvenuti a bordo. Allora guardatelo bene questo signore che vedete perché è esattamente tutto quello che noi vorremmo essere. Lo invidiamo molto ma gli vogliamo bene anche perché ci ha fatto riflettere con la sua vita raccontata in un libro su quello che comunque tutti noi possiamo fare. Si chiama Filippo ve lo presento dopo. Sigla! Buongiorno Filippo, buongiorno. Ciao Corrado e grazie dell'invito. Grazie a te per averci fatto navigare nella nostra disperazione. Filippo Buscaroli, adesso ve lo racconto. È un signore di 33 anni che ha avuto il coraggio a un certo punto di mollare tutto e di seguire quello che è stato poi che è diventato il titolo del suo libro, Wanderlust, che è un moto dell'anima, la voglia di viaggiare, di andare lontano, di sperimentare nuovi orizzonti, vedere nuove facce, insomma quello che tutti noi desideriamo. È anche, e finisco la presentazione, è anche un retroterra filosofico nel romanticismo ottocentesco. Goethe, i viaggi del giovane signore, l'ottocento, i grand tour, insomma ci costruiamo quello che vogliamo, ma soprattutto è una vita piacevole che va da un continente all'altro. Filippo, è così, raccontaci. È così, è così Corrado, è una sindrome da definire io, è un qualcosa, proprio un moto dell'anima, una pulsione che fin da ragazzino ho sviluppato e ho cominciato a provare, poi ovviamente crescendo, le ho dato una definizione, un senso logico. Diciamo che è una cosa che io credo sia innata, poi ci sono tanti studi sotto che lo dimostrano. Raccontaci la tua strada, tu hai vissuto prima, mi dicevi, tra Bologna e Imola dove sei nato, poi Milano, poi a un certo punto hai detto, sapete che c'è? Hai fatto la valigia, piccola immagino, nemmeno troppo grossa. E te ne sei andato? Sì, in realtà grossa all'inizio. E te ne sei andato in Australia. Ecco, cominciamo da qui la tua storia. Sì, come hai detto tu, io ho avuto un passato, sono partito che avevo già compiuto 25 anni e avevo avuto esperienze lavorative di vita in Italia e sono partito per l'Australia con un biglietto di sola andata insieme alla mia ragazza, che poi è diventata mia moglie e da lì non sono più tornato indietro. Beh, un gran coraggio, un gran coraggio che però ti ha pagato e hai raccontato tutte le tue avventure in questo libro, Wanderlust, che ha venduto, che poi è tedesca, la definizione Wanderlust è tedesca, come si pronuncia esattamente? Che io il tedesco non lo so. Come dici tu, Wanderlust è la dizione corretta per noi italiani, internazionali diciamo. Allora, nel tuo peregrinare, quali posti meravigliosi hai incontrato che ti sono rimasti nell'animo? So che hai amato l'Australia, so che hai amato anche le Hawaii. Sì, sono legatissimo all'Australia perché da lì è iniziato tutto ed è stata la prima una grossa esperienza di vita. Poi sì, come hai detto tu, io ho un grande, ho un debole per le Hawaii perché io ho vissuto in periodi diversi lavorando o studiando. Che facevi alle Hawaii? Alle Hawaii ho fatto volontariato, ho lavorato in un ostello per tre mesi, in un altro periodo ho studiato inglese, ho migliorato l'inglese. Quindi diciamo io ho sempre vissuto in periodi diversi facendo cose differenti. Oh, poi che altri posti ti porti nel cuore? Ma sicuramente sono molto legato anche alle isole Figi, che sono questo arcipelago in mezzo al Pacifico, tra l'Australia e il Sud America più o meno. Certo, voglio dire, tutti i postaci. Tutti, sono un amante del mare, si capisce dalla scelta dei luoghi. Se ne devo elencare altri due, due o tre in cui ho viaggiato, sicuramente l'Alaska è uno dei posti più incredibili che abbia visto. Non so, ce ne sono tanti, anche l'Equador se ne dovessi dire uno. Beh, insomma, un panorama ben composito, però poi a un certo punto ti sei fermato e ora stai a Fuerteventura, sempre abbracciato dal mare. Ma quanto pensi di starci? Ma penso di starci tutto l'inverno, o gran parte dell'inverno. Sicuramente anche quello che è successo a livello mondiale, la pandemia, mi ha bloccato parecchio, perché io ero in Peru ad aprile del 2020, quando è iniziato tutto, e ho fatto un po' di quarantena là, e sono riuscito a rientrare soltanto a maggio del 2020, e da lì ovviamente sono stato molto più tempi in Europa, anche per le restrizioni che ci sono ovviamente. Senti una cosa, diciamo che l'uomo per sua natura cerca la stabilità, che è una stabilità sentimentale, è una stabilità economica, è una stabilità anche in termini di sedentarietà, no? Poi uno legge Chatwin, l'essernoma del desiderio di vagabondare, però appunto dall'altra parte ha questo desiderio, questo impeto, questa sindrome di volersi muovere. Ora tu come combini le due cose? Perché per esempio, non mi voglio fare i fatti tuoi, ma tu mi dici, sono partito con la mia fidanzata che poi è diventata mia moglie, so un po' d'anni che è stata insieme. Ora l'irrequietezza, anatomia dell'irrequietezza, l'irrequietezza in genere scuote sempre, tu invece da una parte mi sembra che sei una persona molto stabile, molto ferma, come combini le due forze? Questo è un argomento complesso, io sono sempre stato una persona irrequieta di natura, fin da ragazzo, molto meno a livello sentimentale. Ti risponderei dicendo che sono stato fortunato a incontrare Giada in un momento della mia vita importante, perché io e lei ci siamo conosciuti pochi mesi prima della partenza per l'Australia e diciamo che abbiamo in comune questa cosa, questo wanderlust, questa sindrome, quindi è stato facile combinare il sentimento con, diciamo, un pensiero comune della vita, ti direi. Non è sempre facile, è un equilibrio abbastanza, soprattutto a livello familiare, di amicizia, no? Perché io ho legami forti in Italia. Però credo che una volta digerita la cosa, il mio modo di essere, il nostro modo di essere, si riesca a trovare un equilibrio con le persone in generale, no? Senti, ma ti viene mai in mente il pensiero al dopodomani? Cioè la pensione, no? Tutte quelle certezze che nel mondo di oggi, e purtroppo mi viene da dire anche le generazioni di oggi in qualche modo cercano. Ecco, la certezza per te cos'è? La certezza per me è la libertà. Bella, bellissima risposta, un applauso ti farei, guarda davvero. E comunque al di là di questo, Corrado, ti dico sì, ovviamente io anche faccio pensieri comuni a tutti, sarà anche per questo che ho appena aperto la mia agenzia viaggi, non te l'avevo neanche detto probabilmente di persona, due mesi fa in Italia, online, però basata in Italia, quindi comunque sia, diciamo che anch'io sto cercando una strada, no? Per far combinare le due cose, no? Stai a diventare vecchio, come si diceva? Sto diventando vecchio anch'io, sì, ecco, come me l'ha detto anche mio padre, sto diventando vecchio anch'io. Senti, prossima tappa, dai giochiamo un po' col futuro, dovendoti spostare da lì a un certo punto ti sposterai perché ti verrà a noi all'Atlantico, ti verrà a noi a... Dove te ne andrai? Guarda, quello che stiamo pensando e sperando di fare mi piacerebbe attraversare il Centro America via terra, perché sono stato già in Messico, in Costa Rica, ma mi piacerebbe vedere di più. Ovviamente è anche una scelta abbastanza pratica perché è una delle zone del mondo più aperte al turismo in questo momento, quindi questa è l'idea per la primavera, mettiamola così. Va bene, Filippo, allora grazie di averci aperto il cuore, mi viene da dire, di averci raccontato la tua esperienza, leggeremo, abbiamo letto, leggeremo, chi ci vede, ci ascolta, leggerà il tuo libro, ne trarrà spunto per riflettere e magari per fare la valigia e andare a cercare la felicità intorno al mondo. Caro Filippo, grazie di essere stato con noi, ci vedremo presto di persona, mi farebbe piacere e appuntamento alla prossima puntata di Benvenuti a Bordo.